Lippolanza alla vigilia dell'europeo, come si torna in campo dopo quell'avventura giapponese? Sicuramente con tanta voglia di dimostrare anche questa volta che possiamo fare bene, abbiamo molte aspettative davanti, abbiamo tante partite, giochiamo in casa, quindi sicuramente è un fattore campo da sfruttare. Abbiamo voglia di iniziare domani e speriamo che la giornata passi veloce oggi perché abbiamo veramente tanta voglia. È stato difficile tornare in palestra cinque giorni dopo quella sfacchinata anche a livello nervoso? Diciamo che ci ha impegnato molto la World Cup fisicamente e anche mentalmente, non è stato semplice. Perché sappiamo che abbiamo questa grande opportunità, abbiamo questo europeo che potrà sicuramente essere un grande europeo e abbiamo tutti voglia di dimostrare che ci siamo e abbiamo voglia di continuare a vincere. Secondo te è cambiato qualcosa nell'Italia? No, è passato talmente poco tempo che non può essere cambiato molto. Abbiamo da rimettere in gioco tante cose, da rivedere alcune parti di gioco, da andare convinti sul nostro obiettivo. Noi abbiamo le qualità per farlo, l'abbiamo dimostrato a noi stessi in primis e dopo sicuramente a tutta la gente che ci segue. Sarà bellissimo giocare qui a Torino perché so che ci saranno tante partite in cui il palazzetto sarà pieno e sarà emozionante per noi.